Dei miei mali sarai di questi anni avari, loro nelle mani. Benvenuti ad una nuova puntata del videogiornale Omicidio ad Aragona, Gena un po' soppello, il marchio colpisce ancora, e tanto altro dopo la pubblicità. Ma adesso messaggio in rima, qui a Portobello, con questo calmo venticello, c'è Leonardo, tu che bello, gesto vino la carezza, il pitello ogni titrezza, Slavia Mario sta l'ordita, la orrezza è tra le dica, Elena è gelosa, Eliana è gelosa, ti presume sia mogliosa, caramatta si avvicina, mi propone una svezzina, cicciolo si chiama e dice, oh è mia Eliana, il marco interviene e adesso se ne vede, è Spagnaferino, il maestro del clarino, oh che bel casino, è guardando da vicino, buona notte da fiorentino, ogni dono. per te l'uomo l'uomo ricorda l'uomo l'uomo il servizio l'uomo attori l'uomo